Sono Manuel Coppola e sono il direttore dello sviluppo in Lightbox. Nasco nel mondo della programmazione perché è la mia più grande passione e in precedenti esperienze mi è capitato già di ricoprire il ruolo di team leader. Da qui mi è arrivata un giorno la proposta di assumere questo ruolo di direttore dello sviluppo in Lightbox. Era qualcosa di grande, che un po' mi spaventava, però ho detto proviamoci. Da due anni faccio parte del team di Lightbox. Lightbox è un'azienda giovane e dinamica e il cuore dell'azienda è il team di sviluppo, quindi tutto il team che coordino nella programmazione e una delle cose più belle che ho trovato in questa azienda è la libertà e l'autonomia che ci viene data. Quindi noi portiamo avanti i progetti con la scelta delle tecnologie, discutendoli insieme, facendo dei tavoli di lavoro. Quindi non c'è una struttura rigida, ma è la programmazione che porta avanti il progetto e che lo rende unico e speciale. Il team di Lightbox fondamentalmente si suddivide in tre unità, la parte sviluppo, la parte sistemi e poi la parte di UX e UI che si occupa di quindi tutta la parte grafica. Però in realtà all'interno dell'azienda non respiriamo questa divisione, perché c'è sinergia tra le parti e siamo in realtà un unico team che collabora e cerca di portare al successo Lightbox. Quando si parla di programmazione sembra sempre si parla di qualcosa di molto difficile. In realtà mi piace pensarla che è qualcosa di molto facile, che però richiede delle caratteristiche fondamentali. Talento e passione, grande impegno. Quindi chiunque può diventare un programmatore. L'importante è avere la voglia di mettersi in gioco, fare quello che si ama. Se mi chiedessero com'è la giornata tipo di un programmatore rispondere che è la giornata di un membro di una famiglia. Quindi ci svegliamo la mattina e ci diamo il buongiorno. Poi ragioniamo insieme sulle attività da svolgere durante tutta la giornata di lavoro, quindi i progetti e i task da portare avanti. E poi intervalliamo momenti di programmazione, momenti di riunioni e call, a momenti di normale vita quotidiana. Quindi dal preparare il bambino per andare a scuola, dal preparare il pranzo, si chiede cosa si mangia, cosa si vede in tv, serie tv, momenti di svago anche. E poi si conclude la giornata augurandosi a tutti appunto una buona serata, un buon riposo in attesa del giorno dopo. Se dovessi pensare a cosa fare, che progetto portare avanti nel prossimo mese direi che la mia risposta è sicuramente Vdesk, perché è un progetto che è nato con me, che l'ho visto crescere, l'ho visto consolidare nella sua prima fase, che darà tanti altri stimoli, quindi sono curioso di vedere come crescerà. Sicuramente la situazione che abbiamo vissuto ci ha insegnato a lavorare in un modo diverso, anche se poi Lightbox in realtà approcciava il modello dello smart working già prima dell'emergenza sanitaria. Però questo smart working, diciamo cinque giorni su cinque, quindi un full time, ci ha permesso intanto di conoscere modi nuovi di comunicare e di collaborare. E soprattutto ha riconsegnato ad ognuno di noi un po' quella sfera familiare, quella sfera affettiva che un po' mancava. Posso condividervi dal mio punto di vista personale, essendo comunque papà, un bambino piccolo, che avere più momenti di condivisione con lui comunque mi permette di lavorare anche con il sorriso, perché magari sei in call e ti trovi il bambino che fa pasta, che vuole partecipare alle call e quindi tutto questo era qualcosa che si rischiava di perdere passando troppo tempo in ufficio.